Buongiorno amici escursionisti, scusate per ieri, ma alla fine sono stato male Vomito e di allea, adesso sono le 8.40, al giorno successivo ho dovuto rinunciare a partire con gli altri perché non ce l'avrei fatta semplicemente e quindi dovrò rinunciare o l'IBC o Calopattar sostanzialmente perché l'Ilan Peak ovviamente l'ho già pagato Shit Evans, restate sintonizzati Ragazzi, il cesso qui è il posto più caldo che c'è è uno scatolotto, un gabbiotto dove ci batte il sole tutto il giorno e non c'è vento ovviamente Sono ancora qua nel pomeriggio, sono tipo le 4, dovrei aver trovato un porter per domani visto che non sono ancora in piena forma, forse è meglio prenderlo a malincuore ovviamente Scusate la senteismo ma effettivamente non è che ho fatto granché oggi mi sono limitato a rilassarmi, a cercare di mangiare ho fatto una partita a Monopoli con le carte, con degli americani domani mi sveglio alle 5, vado su con un porto dal passo, poi proseguo per Gokyuu bella raga, buonanotte Buongiorno amici escursionisti, sono le 6 del mattino a quest'ora qua, veramente una bomba di raggiungere allora il passo, dai bella lì Il sole ragazzi, il sole, finalmente è Lo zio dice che questi qui sono i segni dei lupi, bella lì insomma Pausina, dietro di me c'è il passo, non male, ma mi mangio un'altra patata Il zio qua si chiama Pema, cioè mi ha detto ora che è andato sull'Ever a 6 volte Ah ma c'è due ragazzi Ragazzi che spettacolo Questa è la lista dal Rengiolà Grazie Pema Grazie mille Prego Eleccionista Pierda Siamo quasi raga Questa è la loggia raccomandata All right Comunque il posto è fighissimo Costa un po' tanto rispetto agli altri Bella raga, fatto d'occia, riposato Sono le 6, c'è una famazza incredibile Quindi vado a mangiare qualcosa, a bere qualcosa Una figata che loro praticamente hanno la stufa giù E hanno bucato tutte le stanze in qualche modo E quindi arriva il caldo della stufa La cena è finita Mi sono fatto due risate con un tizio canadese Che veramente era un personaggio di quelli Un fotografo Quelli che era sempre una storia da raccontare Mi ha fatto ridere di brutto Un po' più tardi del solito, solo il 9 un quarto Bella raga Primo passo è andato Stay tuned Grazie a tutti Grazie a tutti.